Accedendo dal menu del modulo Prodotti, alla sezione Reparti, potrai aggiungere o modificare fino a 10 reparti IVA. Di default trovi già quattro aliquete preimpostate. Reparto 0%, 4%, 10% e 22%. Selezionando un reparto in elenco, puoi modificare il nome e l'aliquota. Il flag ti permette di salvare le modifiche apportate. Puoi procedere allo stesso modo per qualsiasi reparto precedentemente inserito. Per aggiungerne uno nuovo, premi il tasto Più. Anche in questo caso è necessario definire un nome e un'aliquota IVA. Ricorda sempre che la modifica dei reparti richiede la configurazione della stampante. Troverai maggiori dettagli nell'apposita videoguida.